Hello there! Siamo arrivati a 100 iscritti, signori e signori! Grazie a tutti quanti innanzitutto, ma questo significa soltanto una cosa... Invasion! Sabato 26 febbraio, alle ore 21, andremo live, qua, su questo canale! I'm surprised, to be sure, but a work one! Io e Cosi ci scontreremo in un quiz a tema Star Wars fino all'ultimo sangue! This is just the beginning! Non sarebbe uno speciale se però non avessimo bisogno della vostra partecipazione. Infatti, il quiz sarà composto dalle vostre domande. As you wish! Per inviare una domanda basta aprire il link che trovate in descrizione, scrivete il vostro nickname, anche se comunque non è obbligatorio ragazzi, però almeno sapremo chi ci pone la domanda, e scegliete la categoria della vostra domanda e poi la scrivete. Mi raccomando, le domande devono essere secche, non a risposta multipla, pensi domande appunto aperte, con risposte piuttosto specifiche, non vaghe. Le categorie sono le sequenti, trilogia Prequel, Trilogia Originale, Trilogia Sequel, Spin-Off, quindi Rogue One e Solo, le nostre amatissime serie animate, Clone Wars, Rebels e Bad Batch, e ovviamente le ultimissime serie live action come The Mandalorian, stagione 1 e 2 e The Book of Boba Fett. E infine, ultima ma non per importanza, la categoria di domande del Chi l'ha detto, ovvero dove potete inserire una citazione presa da qualsiasi dei contenuti qui sopra citati, mi raccomando comunque, evitate di scrivere cose un po' troppo vaghe, tipo... Potete inviare tutte le domande che volete, l'importante è che scriviate una domanda per modulo, Volete inviare le domande? Compilate il modulo due volte, così da registrarle tutte singolarmente. Il link sarà attivo fino alla sera di venerdì 25, quindi non riuscitevi all'ultimo minuto per inviarlo. Mi raccomando, aspettiamo numerosissime domande. E non abbiate paura di scriverne troppe, comunque ne potete anche scrivere una sola. Il 26 febbraio alle 21 ci impegneremo a risponderle tutte, non importa a che ora finiremo. Master Skywalker, there are too many of them, what are we going to do? A presto e... Ma allora te ne puoi andare, pirata! Auguri, anche a te. Auguri, anche a te.